Cosa consiglia Orch Bench? Lavate bene le fragole, togliete il picciolo e tagliatele a pezzettini Mettetele in un contenitore, aggiungete il zucchero, il cucchiaio di limone e la scorta del limone e frullate bene Dovete ottenere un composto liscio e omogeneo Montate in una ciotola fredda la panna Mettete da parte in un'altra ciotola, montate a neve ben ferma gli albumi Trasferite la polpa di fragole in una ciotola e unite piano piano la panna Montate con le fruste a bassissima velocità Per ultimo unite gli albumi montati Mescolate delicatamente Prendete uno stampo, io ho preso quello da Pruncake, l'ho oliato e ci ho messo la pellicola trasparente sopra Ho versato piano piano il composto L'ho livellato bene, l'ho scosso leggermente e l'ho chiuso con l'altra parte della pellicola L'ho messo in freezer per circa tre ore Passato il tempo, si toglie la pellicola e si gira Si toglie delicatamente lo stampo e si rimuove anche la parte sotto della pellicola A questo punto si guarnisce a piacimento Prima di servirlo tenere una quindicina di minuti a temperatura ambiente Ho! Ho! Grazie a tutti.